ah già la metro oh eh hai trovato un passo della metro vai pure allora oh lo stadio è alla fermata successiva ma incontrerai sicuramente dei piantagrane sul treno ti conviene stare sul pezzo la madonna però sto pezzo qua con la criminalità che dilaga in Italia c'è ti dispiace venire qui in secondo? chi ha parlato? scusami se ti tiro in disparto all'improvviso ti osservo da quando hai lasciato il centro di allenamento mi farebbe molto comodo la tua sto a morire la tua assistenza faccio parte di un'organizzazione chiamata del sai che c'è? quella parte te la dico dopo per ora credi di essere in grado di occuparti della gang che sta seminando il panico nel distretto centrale? torna a fare rapporto quando hai finito ma che cazzo stai se in culo? no ma io voglio andare là fammi andare là e dopo ci penseremo e salgo sul treno il mio rischio è pericolo una volta solamente non riuscirà a scendere finché non avranno giunto la fermata successiva Fire to Map per esempio in quell'asso di tempo la madonna ma non da quanto tempo una società vi vivele per tutti dice Cody ma vivibilissima eh porca miseria testata si si guarda bellissima la metto se poi c'è questa gente qua poco raccomandabile ah schifosi brutti poverzi che fate qui sulla ma trato dei sedili per sedersi non ci sono l'avranno distrutta completamente loro in Italia si sta Marisa quella che siamo andati a vedere no prima però mi sa che eri ah eri a magna Marisa Marisa ma preso lui mamma mia che posso fare queste robe adesso molto power guarda il labbro perché non mi esce la mossa turbo non ho sbagliato che sto a fa' aia perché non c'avevo più i tasti oh ma com'è la mossa di DJ che è quel final fight là aspettate un attimo ecco il calzo ma perché mi sono partiti via i tasti oh mi sono partiti via i tasti non posso più fare le mosse ma questi qua che hanno la doppia cravata dobbiamo commentarli chi è anche no oh ti ballo sulla testa ma eh perché non ce le ho eh ma appunto ma non me lo metto ah perché avevo spostato qua niente perché nella foga nella foga con la O avevo spostato i comandi dei tasti sugli altri maestri e quindi ho fatto una strunzata yeah ti butto per terra buongiorno buongiorno signorina però le lascio stare corvo spelacchiato aiuto volentieri volentieri cioè in baio me ne avevi già chiesto anche uno di scontro che possiamo anche fare dopo mi ricordo che mi avevi chiesto Ken contro Ryu o Ryu contro Ken oh si chiama corvo spelacchiato non è colpa mia che è normale che delle gelatine abbiano quei cosi porca miseria è schifo dove stanno i nuovi dialoghi ma ancora sta metropolitana? ah no però ok sono arrivato che cacchio hai da guardare se vuoi qualcosa sputa il rospo rutta la madonna mamma mia che zentaio che gira qui sotto sai cos'è lo spazio personale no eh figa ma hai ruttato in fazza signora un po' di eh comunque qua c'è pieno di bella gente eh volete tirarmi anche una scorezza non lo so il celebre sindaco che ha ricostruito Metro City con le sue mani Mike Hagar il miglior sindaco di Metro City a Urban Park un tributo solascito è quasi finito uno splendido stadio che si sfreggia del suo nome facciamo andare a fare questa sfida dove c'è appunto Mike Hagar io il tuo compito è eseguire dei rialzi all'indietro quando finisci a terra sai che puoi scegliere se rialzarti sul posto o fare una capriola all'indietro se vuoi andare indietro per riprenderti dall'atterramento premi due comandi qualsiasi appena tocchi a terra nel giro questa mossa viene chiamata rialzo all'indietro il nome deriva dal fatto che al recupero ti ritroverai in una posizione differente rispetto a un rialzo normale cambiare il modo in cui recuperire creerà più difficoltà all'avversario quando cerca di colpirti mentre ti rialzi cosa ne pensi vuoi fare un tentativo? pronti vai eh ma com'è? mi butti per terra o cosa? eh ma oh oh sguagliato fatto fatto meno male fantastico un'esecuzione pazzesca per ora chiudiamola qui la prossima volta che ci vediamo ma che è? ah allora la tua missione sferare una combo da 6 call e la madonna dov'è davvero scegliere gli attacchi perfetti per creare combo in questo caso forse ti conviene provare a usare gli attacchi cancellabili le drive rush anche le super art le altre mosse multicolpo ti torneranno sicuramente utili una mossa che ti posso considerare quella di cianli l'android lightning forse non dovrei spifferarti proprio tutto ma non mi sembrava un lasagna e vai completata godo lo sapevo perfetto hai superato brillantamento e la prova avrò un altro compito per te la prossima volta che ci vedremo vieni a me aspettate che tolgo questo bruttissimo coso qua ora salve signora non c'ho tempo salve gemella della signora non c'ho tempo bravissimo ciao vuoi registrarti per la lega dei principianti puntini puntini certo dall'estero è l'unico motivo per cui qualcuno dovrebbe venire qui no fermami pure se lo sai già ma questo è un torneo per chi ha appena iniziato a lottare e si tiene come spettacolo prima dell'evento principale sempre se non salta tutto il torneo visto le minacce a tutta quella situazione ma pare che lo show della lega dei principianti si faccia di sicuro devi solo iscriverti ti dispiace farmi vedere il tuo telefono? le iscrizioni vengono gestite online con un'app e adesso sei a posto sarà l'app ad abbinare i partecipanti negli incontri i tuoi avversari saranno sparsi per tutta la città trovali e beh affrontali dovrebbe indicarti già il tuo primo avversario tenta il tutto per tutto primo sfidante Wyatt scusa bello ma non sono un principiante mi spiace ti abbiano messo conto di me a qualcuno doveva capitare eh motterombo 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 eh motterombo sarei pure un principiante caro eh Wyatt ma io non mi fermerò dinanzi a nessuno la fama di gloria che pervada nelle mie bene mi ha portato fin qui dopo un grande assilloso viaggio nel treno quindi mi dispiace ma levati dai maroni e ti spacco anche le ginocchia intanto che ci sono ma che faccia che so se pochi io posso andare contuggente del genere Star Rising Pim Pum Pam che tiro fuori le mazze sei fortunato che non tiro fuori la mazza perché altrimenti erano cavolazzi tuoi bro aia yeah visto non sono un principiante qual è la categoria prima di principiante dilettante chiedo per un amico il primo battuto congratulazioni per aver vinto il tuo primo incontro ti è stato assegnato l'avversario successivo è nella tua mappa e ciao sei fan di Agar sei qui per ammirare la sua statua o sbaglio hai presente l'incontro di Agar più leggendario di sempre esatto il suo mezzo con me Hunter Laguerrito un botta e risposta durato un'ora intera il flying pile driver di Agar contro il mio Hunter Backdrop e ora puoi goderti anche tu ogni singolo minuto su internet grazie alla magia di YouTube metti mi piace iscriviti al mio canale per ricevere oh ma questo qua che si spamma oh ma come ti permetti ma vattene via si ti affronto perché devo battere colui che si spamma nel mio canale ma guarda sto stronzo effettivamente ha leggermente ragione il signore qua è un misto tra Elvis e Jackie Chan che si spamma nel mio canale non lo so mettiamo un po' a pieto vivere sti spammatori qua te ah schifoso dai fammi il backdrop fammi il backdrop dai vediamo se hai le palle scostumato di uno ma guarda te te e tu sei riuscito ad andare in un main event contro Mike Agar io ho i miei grandi dubbi bastardo ho proprio i miei turbo dubbi se permette questo non è un incontro del torneo tendiamo a specificare yeah lo scomani goldo oh oh calmo mamma mia se non t'ho preso adesso oh dai che mi si deve caricare il fiiiiscia della madonna chi è beh che infazza non sei riuscito neanche ad apportarmi una tua mossa finale tu ti credi di essere un aziendario tizio soltanto perché non c'era il vero avversario principale di Mike Agar tu eri un sostituto e non vali niente disiscrivetevi al suo canale se prima vi iscrivete dopo vi togliete il follow ecco ma va ma va fangul permesso bravissima ma che minchia è questo riconosci questa statua è il sindaco Agar l'uomo a cui devo la vita non eserzerò quando dico che questa città esiste ancora solo grazie ai suoi sforzi Suzuki ma torniamo noi collega che percorri la via della lotta lascia che mi presenti per bene sono Carlos Miyamoto al momento sto dando il massimo per cercare di mantenere l'ordine in città proprio come faceva il sindaco in realtà è da un po' che cerco una persona che sappia cavarsela in combattimento quando come te qualcuno come te cosa ne pensi posso contare sul tuo aiuto certo sono felice di averti a bordo partiamo con un po' di riscaldamento questo lavoro è pericoloso quindi vorrei prima vedere di cosa sei capace è una mia politica personale madonna che tu coglioni pure due scuole oh ma che cazzo oh che cazzo di livello è 15 la madonna sto sto goto no che ho già sputtanato lo sputtacristo spialo eh devo stare molto attento quando sguaina la sguaina ho capito sono Richard però pure io sono bello sono alto sono bello sono fotomodello però no figa bastardo che faccio le figure di mierda eh mo ho capito la tua tecnica bro te sarebbe piaciuto eh aia dobbiamo dobbiamo lottare più a corti vialo no via porca miseria no no mi devo spostare figa piano adesso no ma ha preso lui mamma mia che vittoria a fotofinish questa l'avevamo persa a scemo a coglione pialo 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 pie carlos migliamoto mamma mia un nome una garanzia per forza ecco alla poi se non lo pio no no let's dance un par de balotte bastardo mi allontano mamma mia quanto godo eh molto bello il vestito eh ci dovremmo far dire da dove è andato da da che sarto è andato mamma mia che vittoria e ti danza sopra eh beh può andare ti nomino ufficialmente partner del sottoscritto basta indussare lascia che ti fornisca i dettagli di anzi parliamone da un'altra parte ci sono vediamoci stasera lo skywalk lane il luogo migliore da noi nascondere un albero in una foresta la folla è perfetta per le discussioni delicate arrivederci partner cioè quindi io dovevi andare dovevi prendere la demo ritornare là no ritornare qua scusate di notte ma ci penso neanche molto la lotta di strada è uno stile di vita qui a metro city pronti second round ti toma hawk buster o la vita bastarda hawk mi fa le stesse mosse come se permette oh ue guagliona perché adesso fino adesso mi sono allenato contro gli altri però bastarda via la e fa un danno della madonna questa di mossa cioè non so se rendo conto poi col potere delle corna magari ogni tanto che sbaglia la mossa gli fico il corno nell'occhio fa un male boia mamma mia poi con quel con quei vestiti lì nulla da dire nulla da dire poi effettivamente sembra una pupazza maia e io non sono qui a pettinare le pupazze ma sono qua per superare il turno come quando il sindaco agar ha sgominato la mad gear tanto tempo fa immagino abbia combattuto in giro per tutta la città proprio come stiamo facendo noi ora un combattimento spettacolare ecco il tuo prossimo avversario un un attimo pare che questa persona sia disponibile solo di notte fino ad allora ti ringraziamo per la pazienza che palle non c'è non c'è niente di meglio del lavoro part time hai mai sudato mentre lavoravi part time ti capisco ehi va benissimo così comunque i lavori part time sono pazzeschi sono il modo perfetto per pomparti e pompare il tuo conto in banca la leggende le leggende parlano di un lottatore famoso che si è fatto il fisico mettendo togliendo la cera dalle auto ma dà 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 paura non ti trovi mai a voler ammazzare il tempo ti capisco ehi va benissimo così invece di commettere un tempicidio perché non trasformi quel tempo libero in denaro a fiumi è il momento di migliore di andare là fuori e buttarsi nel part time dove mi chiedi urban park mi sembra un ottimo punto di partenza vacci e prova cara a te la tua vita cambierà per sempre amico mio e se non ti va bene ti pompo io scappo oh eccoti qua lascia che ti illustri la situazione come si deve stavolta sto indagando su una serie di furti e roba da malati veramente rubano spade in qualità di intenditore di spade questa cosa mi fa arrabbiare ancora di più stanno prendendo di mira svariate vittime in luoghi diversi voglio che parli con loro alla ricerca di indizi ho segnato sulla mappa le persone con cui devi parlare vai là e scopri cos'hanno da dire io farò altre indagini per conto mio quando avrai finito ti aspetterò davanti alla statua di Mike Agar di giorno arrivederci qua ci sono i marinai no cosa c'è oh sei qui per indagare sul furto non è esattamente l'aspetto giusto ma poco importa mi basta di avere ciò che è mio puoi anche essere la regina è successo proprio qui a quest'ora del giorno circa mi facevo gli affari dei miei esbam colpito da dietro sì il solo ricordo mi fa infuriare trova quel criminale in fretta capito è per forza scusa se so se so marinai e mo parla coluna a Outlaw Cart oh madonna di gio lol effettivamente salve come posso aiutarti indaghi sul furto dell'altro giorno vero sono stata presa alla sprovvista mi stavo allenando come al solito quando mi hanno attaccata io sono stata incauta ma il mio avversario era davvero formidabile se hai intenzione di inseguirlo fai attenzione trova la lotta con il terzo avversario dell'elmino ah no andu 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 cazzo stiamo madonna consegna via what devo andare qua andiamo qua dove fare pure la consegna a amazon che effettivamente mi deve arrivare un pacco proprio proprio domani in vista del capodanno fuga allora l'entrata dovrebbe essere qua magari cioè nel senso però mi toccherebbe andare di notte signori e non ho voglia di andare là e perdere ancora tempo a cambiare cosa da andare giorno di notte quindi la luna sta là oi là no era sotto affanculo ecco ti qua scambiamoci informazioni sullo stato dell'indagine capisco capisco inizio a capire come mettere insieme i pezzi se mappiamo i luoghi e gli orari dei furti già avvenuti scopriremo dove accadrà la prossima rapina ecco ci siamo il prossimo furto avverrà allo skywalk lane di notte mi dirigo là immediatamente dovresti farlo anche tu una volta finito di prepo prepararti non dimmi che devo andare da notte perché biastimo e mi tocca andare da notte giusto eccala madonna che due coglioni ma perché ci mettiamo poco con sto cazzo del luke skywalker qua che vuole ma allora lei di patimer di di calmo calmo di soprannove fa maurizio è allora un vizio che è qua di giorno fuori da casa mia lei vuole qualcos'altro da me lo dica mappa meno male che c'è pure il via lo posso anche tranquillamente denunciare per stalking non è che ci siano tanti giustamente devo andare da sopra giusto qua no a parte che se io vado non è la mia intenzione salire sulla sua auto mi dispiazza io posso anche fare una cosa tattica complimenti una cosa tattica e passare di qua madonna che ce ne ho tanto dietro questo mi prende è il momento proprio come avevo sospettato ecco i colpevoli dell'incidente cacchio ma siete degli sbirri cosa ci fate qui ho trovato una schema precisa alla vostra attività criminale un pentagramma mistico se colleghi cronorosicamente alle scene del crimine la forma che si crea è decisamente un pentagramma l'ultima punto era proprio un skywalk lane o in poche parole qui ma che dici non c'era nessuno schema abbiamo scelto a caso questo posto si stavamo cercando del bottino sei arrivato tu che scelta avevamo potevamo solo svuotare svuotare il sacco con le sfittinze là mi sembra onesto in ogni caso voi siete criminali e io sono carlos mi chiamo tu sapete cosa succede adesso vedo botte da orbi speriamo che non arrivi anche il tizio pompato che ci vuole pompare tutti perché se ho con la sua potenza ci pompa tutti davvero e non nel modo che che mi intendo io portorico che porca miseria ti prendo dentro anche te carlos però no è giusto che quelli li sanno più vita di me aia ma io voglio menare a quello di là oh bastardi oh uno è burlato su adesso cade pure questo migliomoto se magari fai anche qualcosa saremmo felici oh meno male che mi attacca a me grande migliomoto sì solo qua c'è però ogni tanto beh abbiamo consegnato i colpevoli alla giustizia il caso è ufficialmente chiuso sembri avere qualcosa da dire ah 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 nessun problema non preoccuparti delle piccolezze ma in ogni caso ho capito una cosa lottando al tuo fianco sei forte sia come artista marziale sia come persona se non ti dispiace potresti incontrarmi alla statua di Huggard durante il giorno vorrei chiederti di disputare un match serio non come partner ma come artista marziale tu a pari voglio mostrarti di cosa sono capace arrivederci portone madonna che due